Ciao amici del mio canale, è un altro video degli album dei calciatori, calciatori anastatiche, questa è l'annata 94-95, in copertina vediamo Baresi in nazionale, alle spalle si ricorda bene Romario e gli scudetti delle squadre in prima pagina, iniziamo a sfogliare l'album, si ritorna a pubblicizzare l'almanacco e poi c'è un'iniziativa del Guerin Sportivo, quindi si nomina quest'altra rivista importantissima e famosa, il Guerin Sportivo, iniziamo con un tema azzurrino e il fondo delle squadre è multicolorato con i colori delle squadre stesse, le tabelline curriculum sul lato sinistro affiancate dallo scudetto con fondo argentato e la mascotte, poi veniamo alla squadra è disposta con delle figurine prima allineate e poi un poco oblique, il Bari è la prima squadra, la schierata è sempre fatta da una doppia figurina, da due figurine, quindi la seconda squadra di Serie A è il Brescia, quindi passiamo poi alla terza squadra che è il Cagliari, notiamo le belle mascotte e anche una bella grafica per lo scudetto, dopo il Cagliari abbiamo la Cremonese in Serie A e successivamente ancora andando avanti la Fiorentina, vedete la Fiorentina, la grande squadra della Fiorentina in quell'annata con Battistuta, Ricosta, Baiano e poi il Foggia che in quegli anni stazionava spesso in Serie A con i Foggia di Zeman e anche i successori di Zeman come Catuzzi che era l'allenatore in questa annata, poi abbiamo il Genoa, anche qui un grande attacco con Scuravi e tutti i buoni giocatori, un tacconi in porta, vediamo poi l'Inter con i vari Paiugaru, Ben Sousa, Jonk, Berti e via dicendo qualche calciatore acquistato dal Foggia come Seno, Conte col Foggia che aveva stupito, il Foggia di Zeman, passiamo poi alla Juventus, la Juventus di Baggio, Ravanelli e Vialli, una gran squadra come con grandi giocatori e veniamo poi alla Lazio, anche qui si andava formando una grande squadra, era la Lazio di Signori, Fuser, Bocic, squadre che lottavano per i vertici, così come chiaramente il Milan che era il Milan di Savicevic, di Simone, di Desailly, Melli che veniva dal Parma, vediamo un Napoli che invece era una squadra che si andava ridimensionando, in quegli anni comunque andava comunque a fare delle buone posizioni, ancora non era la squadra che andava a scendere in Serie B prima della poi rinascita dei tempi nostri moderni, dopo il Napoli troviamo il Padova e il Parma che in Serie A faceva buonissimi campionati con Crippa, Aspriglia, Zola, tantissimi grandi giocatori, era una delle altre squadre di vertice, poi troviamo la Regina e la Roma che insomma non lottava per le grandi posizioni, le posizioni alte, comunque teneva una buona squadra con Balbo, Fonseca, un grande attacco e poi la Sampdoria, la Sampdoria che ancora aveva Mancini, poi aveva acquistato Kulit, Ferri, Mijailovic, una Sampdoria che tentava di rimanere sul pezzo, venuta anch'essa da un'annata importante e veniamo al Torino, al centro troviamo sempre l'inserto calciatori nella statica, numero 34, l'album 34 di tutti i tempi e andiamo a vedere all'interno, ci presentano le statistiche con la gazzetta e la celebrazione della Juventus vincitrice dello Scudetto, l'esplodio dell'anno con un giovane del Piero, il capo vanno dire Battistuta, proseguiamo con il Torino, il Torino una squadra di media classifica, infatti fece l'undicesimo posto, comunque con una buona squadra, con Silenzi, con Rizzitelli, calciatori anche da nazionale e si passa alla Serie B, la Serie B è la stessa light motive della Serie A con gli stessi sfondini, gli stessi temi colorati a partire dall'azzurrino e poi i colori delle squadre, troviamo la Serie A, l'Ancuna, l'Ascoli, una bella disposizione delle figurine, c'è anche la Mascotte, che appunto era una figurina, due mascotte, ad esempio Ascol e Ancuna insieme, lo Scudetto invece sempre con fonte argentato, la schierata con una squadra e la doppia figurina del calciatore allineate, è una bella disposizione, quindi passiamo alle squadre successive, abbiamo l'Atalanta, il Cesena, il Chievo Peruna e il Como, il Chievo Peruna che poi di lì a poco sarebbe salito in Serie A per fare appunto quei campionati che tutti noi ricordiamo, il Cosenza, i Rafi di Alessandria, poi la Lecce e la Lucchese, poi vediamo il Palermo e il Perugia, poi Pescara e Piacenza e Salernitana e Udinese, notiamo come in quegli anni, metà anni 90, ad avanti Udinese, protagoniste di questa Serie A, negli ultimi anni, comunque in quegli anni stavano, militavano in Serie B, poi come Venezia e Verona e infine in Vicenza. Per la Serie C1 abbiamo la sezione del calendario ben fatta con una pagina e le squadre sono disposte in una maniera un po' diversa, schierata con scudetto, chiaramente gli scudetti sono sempre a due e in una figurina ce ne stavano due chiaramente e iniziamo con la Serie C1 Gironea con più pagine, disposto in più pagine, in quattro pagine e poi così anche come la Serie C1 Gironea B, disposta anch'essa chiaramente in quattro pagine. Finisce qui la sezione dedicata ai campionati, iniziano le coppe, le campionate europee delle nazioni, però solo statistiche, una sezione di pagine sono statistiche, senza figurine e così terminava l'album con il concetto del completamento, i concetti utili per il completamento dell'album, stavolta colorati e non in bianco e nero come era stato fino ad allora e si chiude con la copertina di retro dove abbiamo le pubblicità, le pubblicità di vari sponsor, spero che il video vi sia piaciuto, se volete iscrivervi al canale partiranno altri video simili e abbiamo la playlist dedicata comunque alla parte degli album dei calciatori e la storia del calcio attraverso le figurine.